Perché mangiamo? Mangiamo perché è necessario, il nostro corpo ha bisogno del cibo per sostenersi, per aiutarci in tutte le attività della giornata. Ma mangiamo anche perché è una gioia, è un piacere. Quando a tavolo arriva il nostro piatto preferito ci si illuminano gli occhi. Ma mangiamo anche per stare insieme alle altre persone, per stare con gli amici, per trovare l'occasione per chiacchierare e creare relazione. Perché vi chiedo questo? Perché l'Eucarestia funziona esattamente in questo modo. L'Eucarestia per noi è necessaria. Noi abbiamo bisogno dell'incontro con Gesù, senza non possiamo vivere da cristiani. E poi l'incontro con Gesù per noi è una gioia infinita, che cambia e trasforma la vita. E poi con l'Eucarestia noi creiamo la Chiesa. Attorno a Gesù le comunità cristiane vivono e si sentono sempre più fratelli e sorelle. E allora che bella l'Eucarestia! Grazie Signore per questo dono grande. Aiutaci a viverlo sempre bene. Buona settimana! Grazie a tutti!